salve a tutti e benvenuti al corso base di adobe after effects voglio darvi il benvenuto a questo corso nel quale spiegheremo quelle che sono le basi di questo fantastico software utilizzabile sia per il compositing di scene di effetti visivi oppure di motion graphics quindi possiamo variare davvero tantissimo l'utilizzo di questo software attraverso varie tipologie di lavoro questo è adobe after effect ma prima di cominciare con le lezioni quindi con quella che l'interfaccia voglio mostrarvi come si fa a reperire adobe after effect è un software della casa adobe per l'appunto basterà andare sul nostro browser digitare www.adobe.it.com slash it altrimenti andare su foto videografica e all'interno di tutti gli altri prodotti troveremo anche adobe after effect e cliccando su questo pulsante potremo scaricare una versione di prova naturalmente adobe after effect è un programma a pagamento con una licenza ad abbonamento sia mensile che annuale e possiamo scegliere sia di acquistare il solo software adobe after effect oppure quello di prendere l'abbonamento più completo che quello che consiglio a tutti di prendere con praticamente il doppio utilizzare tutti i programmi della suite creative cloud di adobe all'interno e naturalmente è compreso anche adobe after effect una volta installato creative cloud che questa applicazione da qui potremo tranquillamente andare a scegliere di installare after effect l'ultima versione come in questo caso a me compare la parola il pulsante aggiorna oppure cliccando su questi tre pallini andare ad installare altre versioni precedenti ad esempio installato la versione 17 al momento in cui registro il corso siamo alla versione 2020 nominale ma la versione di after effect la 17.0.2 quindi senza perderci in chiacchiere scaricate adobe after effect e cominciamo subito il nostro corso